mi svegliai all'improvviso da un orribile sogno e mi guardai intorno sconcertato poi vedi il soffitto alto arquato le strette finestre chiazzate della camera del mio amico e fui colpito da un flusso di ricordi spiacevoli dunque le speranze di Andrew si erano realizzate ero supino sul gran letto a colonne che svettavano verso l'alto in una prospettiva vertiginosa i vasti scaffali da cui la stanza era circondata ospitavano i familiari e antichi volumi che ero abituato a vedere in quell'angolo appartato della vecchia dimora cadente in cui abitavamo insieme da anni sul tavolo accanto alla parete c'era un grosso candelabro di fattura e disegni antichi e le tanghe leggere alle finestre erano state sostituite da pesanti drappi neri che nella luce morente mandavano un riverbero debole e spettrale contro la mia volontà ricordai gli avvenimenti che avevano preceduto il mio ritiro e confino in quella vera e propria fortezza medioevale non erano piacevoli e quando ricordai il letto che mi avevo ospitato prima dell'attuale rabbrividi ancora perché avrebbe dovuto essere il mio letto di morte le orribili circostanze che mi avevano costretto a scegliere tra la morte autentica e una simulata seguita da rianimazione con metodi terapeutici noti solo al mio amico Marshall Andrews mi tornarono alla memoria avvelenandomi di nuovo tutto era cominciato un anno prima al mio ritorno dall'Oriente quando avevo scoperto con orrore di aver contratto la lebra sapevo che assistendo mio fratello malato nelle Filippine correvo un grave rischio ma fino al ritorno a casa non scoprì alcun segno della mia malattia della cosa si era accorto proprio Andrews che aveva cercato di nascondermela più a lungo possibile ma essendo buoni amici non avevo tardato a scoprire la terribile verità ero stato immediatamente isolato nel nostro antico rifugio sulla cresta rocciosa che domina la faticente Hamden con la proibizione di allontanarmi dai suoi polverosi corridoi e antiche porte ad arco era stata una vita d'inferno con l'ombra della dissoluzione che alleggiava su di me ma il mio amico non aveva mai perso la fiducia e aveva posto ogni attenzione per evitare di contrarre a sua volta la malattia nel frattempo avevo cercato di rendermi la vita più piacevole e comoda che fosse possibile la sua vasta e un po' sinistra fama di chirurgo aveva fatto sì che le autorità non scoprissero le mie condizioni e non mi mandassero in quarantena in qualche luogo sperduto dopo quasi un anno di reclusione verso la fine di agosto Andrews decise di fare un viaggio nelle Indie occidentali per studiare come disse i sistemi di cura dei nativi io fui lasciato alle cure del vecchio Sam's il fattore di casa fino a quel momento non si era manifestato alcun segno esteriore della malattia e durante l'assenza del mio amico condussi un'esistenza abbastanza tollerabile anche se quasi del tutto isolata fu a quell'epoca che lessi molti dei volumi acquistati da Andrews in vent'anni di esercizio della professione e capii perché la sua reputazione per quanto fra le più alte della zona non fosse proprio limpida le opere in questione trattavano di argomenti che non avevano nulla a che fare con la moderna scienza medica trattati o articoli senza alcuna autorità su mostruosi esperimenti chirurgici reso conti sui bizzarri effetti del trapianto di ghiandole per ringiovanire animali ed esseri umani opuscoli che descrivevano tentativi di trapianto del cervello e una serie di teorie altrettanto folli che nessun medico ortodosso avrebbe osato sottoscrivere a quanto pare Andrews era un'autorità sulle più oscure risorse della medicina alcuni volumi dimostravano che si era a lungo occupato di chimica e aveva cercato di mettere a punto nuove sostanze che giovassero alla pratica ripensando oggi a quegli studi e mettendoli in relazione ai successivi esperimenti li trovo orribilmente suggestivi Andrews rimase via più di quanto mi aspettassi e tornò ai primi di novembre circa quattro mesi più tardi quando arrivò ero piuttosto ansioso di vederlo perché la malattia cominciava a dare le prime manifestazioni esterne ero giunto a un punto in cui dovevo rifugiarmi nella più assoluta riservatezza per evitare di essere scoperto ma la mia ansia era nulla a paragone delle citazioni di Andrews per un progetto che aveva studiato nelle Indie e che bisognava realizzare con l'aiuto di un misterioso medicinale di cui era venuto a conoscenza da medico nativo di Haiti quando spiegò che quest'idea mi riguardava ne fu in un certo senso allarmato ma nella mia situazione niente avrebbe potuto peggiorare lo stato delle cose più di una volta in realtà avevo pensato di darmi la morte con un colpo di pistola o un volo sugli aguzzi spuntoni di roccia che si innalzavano sotto la casa il giorno dopo il suo arrivo nella solitudine dello studio fiogamente illuminato Andrews spiegò il macabro piano ad Haiti aveva trovato una sostanza di cui in seguito avrebbe sviluppato la formula che induceva in chiunque uno stato di sonno profondo una trance così avanzata che poteva essere facilmente scambiata per la morte per un certo periodo di tempo tutti i riflessi muscolari e in particolare la respirazione e il battito cardiaco rimanevano sospesi Andrews disse di avere osservato più volte l'effetto sui nativi alcuni soggetti rimanevano addormentati per giorni e giorni immobili come cadaveri questa sorta di animazione sospesa continuò avrebbe superato l'esame di qualunque medico egli stesso stando alle leggi biologiche note avrebbe dichiarato morto che si trovasse sotto l'effetto della sostanza affermò inoltre che il corpo del soggetto assumeva l'aspetto inconfondibile di un cadavere e che nei casi di sonno più prolungato sopravveniva perfino una lieve forma di rigor mortis per un po' i suoi scopi non mi parvero del tutto chiari ma quando afferrai il senso pieno delle sue parole mi sentii tremare le gambe nauseato in un altro senso tuttavia ero contento il piano rappresentava una parziale salvezza dalla maledizione che gravava su di me la fuga dall'isolamento e dalla vergogna di una normale morte per l'ebra in breve il progetto di Andrews consisteva in questo somministrarmi una forte dose della sostanza sconosciuta e convocare le autorità locali che senza alcun dubbio mi avrebbero dichiarato morto infine provvedere a che fossi seppellito nel più breve tempo Andrews era sicuro che nella loro superficialità i medici del posto non avrebbero notato i sintomi della lebra che del resto erano appena comparsi da quando avevo contratto la malattia erano passati poco più di 15 mesi mentre noto che per fare il suo corso devastante occorrono circa sette anni in seguito promise mio amico sarei risorto dopo avermi fatto seppellire nel cimitero di famiglia accanto alla mia antica abitazione e a meno di mezzo chilometro dalla sua avrebbero fatto i passi appropriati finalmente diffusa la notizia della mia morte e sistemati i miei affari personali Andrews avrebbe aperto segretamente la tomba e mi avrebbe riportato in casa sua vivo e non peggiorato nelle mie condizioni sembrava un piano audace e macabro ma per me costituiva l'unica speranza di un po' di libertà per questo accettai la proposta non senza mille timori e se l'effetto della sostanza sconosciuta si fosse consumato mentre ero ancora nella tomba e se il coroner avesse scoperto il terribile stratagemma rifiutando di farmi seppellire ecco alcuni dubbi angosciosi che si impossessarono di me prima dell'esperimento e ben che la morte si potesse considerare una liberazione dal mio destino la temevo più della piaga della corruzione la temevo pur sentendo che le sue ali nere incombevano costantemente su di me per fortuna mi fu risparmiato l'orrore di vedere i miei funerali e il rituale della sepoltura comunque ogni cosa andò secondo i piani di Andrews compresa l'esumazione dopo la prima dose di veleno haitiano ero sprofondato in uno stato di semiparalisi e quindi in un sonno profondo nero come la notte la sostanza mi era stata somministrata nella mia stanza e prima di farlo Andrews aveva detto che avrebbe proposto al coroner un verdetto di attacco cardiaco per tensione nervosa ovviamente non si sarebbe parlato di imbalsamazione a questo avrebbe pensato lui e tutta la procedura che sarebbe terminata col trasporto clandestino del mio corpo dal cimitero alla vecchia magione in cui viveva il mio amico non avrebbe richiesto più di tre giorni seppellito nel tardo pomeriggio del terzo giorno il mio corpo era stato recuperato da Andrews la notte stessa e naturalmente egli aveva composto il terreno come l'avevano lasciato i becchini il vecchio Sam's a cui avevamo fatto giurare il segreto aveva aiutato Andrews nel macabro compito dopodiché rimasi nel mio vecchio letto per più di una settimana a causa di un effetto imprevisto della droga tutto il mio corpo sarà paralizzato e a stento riuscivo a muovere la testa i sensi invece erano allerta e dopo un'altra settimana fu in grado di mangiare in quantità normali Andrews spiegò che il mio corpo avrebbe riacquistato l'antica sensibilità ma che data la presenza della lebra ti sarebbe voluto del tempo e me i sintomi lo interessavano profondamente e ogni giorno ne prendevo a nota inoltre mi chiedeva se avessi qualche sensazione fisica particolare passarono diversi giorni prima che fossi in grado di controllare una qualunque parte del mio corpo e un periodo ancora più lungo prima che la paralisi abbandonasse le mie membra e riuscisse ad avvertire le normali reazioni fisiche confinato nel letto e fisso sullo spettacolo del mio corpo intorpidito mi sembrava di essere imbottito da un estetico era una sensazione di alienazione totale che non riuscivo a comprendere specie in considerazione del fatto che la mia testa e il mio collo erano vivi e in buone condizioni andrews disse di aver rianimato per prima la metà superiore del corpo e di non riuscire a spiegarsi la paralisi completa in ogni caso il mio stato lo preoccupava poco considerato l'interesse addirittura morboso con cui fin dall'inizio si era concentrato sulle mie reazioni e i miei stimoli fisici spesso durante una pausa nella conversazione mi osservava a letto e coglievo nei suoi occhi una strana luce un lampo di esultanza e di trionfo che stranamente non esprimeva mai la voce ma nel complesso pareva soddisfatto che avessi superato la sfida della morte e fossi tornato vivo nei tediosi giorni in cui attendevo il recupero delle mie funzioni alla desolazione e alla malinconia si aggiunse la coscienza dell'orrore cui sarei andato incontro in meno di sei anni ma Andrews mi assicurò che fra non molto avrei potuto alzarmi e camminare godendomi l'esistenza come a ben pochi era stato dato di fare tuttavia quelle parole non mi colpirono nel loro pieno e macabro significato fino a parecchi giorni più tardi durante il terribile confino a letto Andrews ed io perdemmo in qualche modo l'intimità di prima egli non mi trattava più come un amico ma come uno strumento delle sue mani abili ed avide scoprì in lui caratteristiche di cui non mi ero mai accorto piccoli esempi di bassezza e crudeltà che non sfuggivano neppure all'incallito Symes e che mi tormentavano in modo inspiegabile a volte Andrews mostrava una straordinaria crudeltà verso gli animali di laboratorio perché continuava nei suoi oscuri progetti di trapianto muscolare e ghiandolare su conigli e porcellini d'India inoltre adoperò la sostanza sconosciuta per una serie di esperimenti sull'animazione sospesa ma di questo parlava poco ed era il vecchio Symes a lasciarsi sfuggire ogni tanto un commento che illuminava la situazione non potevo dire con certezza quanto sapesse il vecchio servitore ma essendo l'unico compagno di Andrews e mio doveva aver imparato parecchio col passare del tempo nel mio corpo inabile cominciò a insinuarsi una lenta ma consistente ripresa della sensibilità e quei sintomi accesero in Andrews un interesse fanatico per il mio caso continuò a comportarsi nei miei confronti in modo freddo e analitico anziché affettuoso mi prendeva il polso e auscultava il battito cardiaco con più zero del solito ma a volte durante quei febbrili controlli vedevo le sue mani tremare leggermente cosa insolita in un bravo chirurgo dal canto suo non si preoccupava minimamente del fatto che l'osservassi non mi permise mai di guardare il mio corpo neppure per un momento ma col graduale ritorno del senso del tatto mi resi conto che avevo una mole e un peso insoliti e ingombranti a poco a poco riacquistai l'uso delle mani e delle braccia e col dileguarsi della paralisi subentrò una nuova e terribile sensazione di alienazione fisica le membre eseguevano con difficoltà gli ordini della mente e i movimenti erano goffi incerti e le mie mani erano talmente impacciate che dovetti riabituarmi a usarle pensai che tutto questo fosse dovuto alla malattia e al procedere del contagio nel mio sistema non sapendo quali fossero i primi sintomi che colpivano la vittima mio fratello era un caso piuttosto avanzato non ero in grado di giudicare e poiché Andrew se evitava l'argomento pensai che fosse meglio tracere un giorno ormai non lo consideravo più un amico mi chiesi se potessi mettermi a sedere in mezzo al letto sulle prime si oppose vigorosamente ma poi dopo avermi raccomandato di tirare le coperte fino al mento per non prendere freddo la consentì il fatto mi parve strano perché la temperatura era confortevole e dato che l'autunno volgeva all'inverno la stanza era sempre ben riscaldata durante la notte il freddo era aumentato e dalle finestre scorzeva ogni tanto uno squarcio di cielo plumbeo questo mi aveva permesso di intuire il cambio di stagione perché sulle pareti malandate non c'erano calendari con il delicato aiuto di Sam fui messo a sedere mentre Andrew si osservava freddamente dalla porta del laboratorio visto che ci riuscivo un lento sorriso si allargò sul suo viso insolente poi si voltò e scomparve oltre l'arcata scura il suo modo di fare non migliorò certo il mio stato il vecchio Sam che di solito era puntuale ed efficiente cominciò ad arrivare tardi e a volte mi lasciava solo per ore un terribile senso di alienazione era acuito dalla mia nuova posizione sotto la camicia da notte gambe e brazza seguivano a stento gli ordini del cervello tentare di muoversi anche per un breve periodo diventava un'insopportabile fatica mentale le mie dita pateticamente goffe non rispondevano al senso interiorizzato del tatto e mi chiesi se per il tempo che mi restava da vivere sarei stato afflitto da una mancanza di coordinamento dovuto alla terribile malattia i sogni cominciarono la sera dopo la mia parziale ripresa non solo mi assillavano durante la notte ma anche di giorno mi svegliavo e urlavo in modo spaventoso per qualche incubo a cui una volta sveglio non osavo nemmeno pensare di solito si trattava di cose macabre cimiteri di notte cadaveri che camminavano anime perdute in un caos di ombre e luce accecante quel che più mi tormentava era la terribile realtà delle visioni come se un influsso che proveniva da dentro di me provocasse quelle agghiaccianti visioni di sepolcri illuminati dalla luna e infinite catacombe popolate di morti inquieti tuttavia non riuscivo a scoprirne la fonte e alla fine della settimana i tremendi pensieri che salivano alla mia coscienza riluttante mi avevano reso quasi isterico nel frattempo avevo cominciato a formulare un piano che mi permettesse di sfuggire all'inferno in terra in cui ero piombato Andrews si preoccupava sempre meno di me e l'unica cosa che lo interessasse era il progresso la crescita e lo sviluppo delle mie funzioni muscolari mi convincevo ogni giorno di più degli atti nefandi che venivano compiuti nel laboratorio accanto alla mia stanza le grida degli animali erano terrificanti e scuotevano in modo insopportabile i miei nervi tesi inoltre cominciavo a pensare che Andrews non mi avesse salvato dalla deportazione per il mio bene ma per qualche suo terribile motivo le quelle di Sam si facevano sempre più rare e mi convinsi che il vecchio domestico fosse complice della macchinazione Andrews non mi considerava più come un amico ma come una cavia da esperimento e non mi piaceva affatto il modo con cui carezzava il bisturi ogni volta che si affacciava alla stretta porta della stanza e mi fissava con interesse professionale non avevo mai visto una trasformazione del genere verificarsi in un uomo il volto di solito piacevole era teso e malrasato gli occhi scintillavano come se da essi guardasse un demone di satana lo sguardo freddo e calcolatore mi faceva tremare in modo terribile accrescendo il mio desiderio di liberarmi al più presto da quella schiavitù durante il periodo dei sogni deliranti persi il senso del tempo e non riuscì a stabilire quanti giorni fossero passati spesso le tende erano abbassate anche nelle ore di luce e la stanza era illuminata da candele di cera apposte in un gran candelabro era un incubo irreale orrore allo stato puro anche se a poco a poco stavo diventando più forte alle domande di Andrews sulla ripresa del mio controllo fisico rispondevo con cura nascondevo il fatto che ogni giorno vibrava in me un'energia vitale maggiore e anche uno strano tipo di forza che speravo mi avrebbe aiutato nella prossima crisi una fredda sera in cui spente le candele un pallido raggio di luna cadeva sul mio letto decisi di alzarmi e portare a termine il mio piano da diverse ore non sentivo il movimento dei miei guardiani e confidavo che fossero addormentati nelle stanze da letto adiacenti spostando con cura la mia mole ingombrante mi misi seduto e sgusciai dal letto fino a toccare il pavimento fui afferrato da un momentaneo senso di vertigine e un'ondata di debolezza attraversò il mio corpo ma finalmente la forza tornò e aggrappandomi a una delle colonne del letto fui capace di reggermi in piedi per la prima volta dopo vari mesi poco a poco mi sentii invadere da una nuova forza e indossai la vestaglia scura che avevo visto su una sedia vicina era piuttosto lunga ma serviva a coprire la camicia da notte tornò il senso di spaventosa estraneità che avevo provato a letto un senso di alienazione e difficoltà a farmi obbedire dalle mie membra ma dovevo affrettarmi prima che le forze mi abbandonassero come ultima precauzione misi un paio di vecchie scarpe avrei giurato che fossero mie ma erano incredibilmente larghe e conclusi che dovevano essere del vecchio salms dato che nella stanza non c'erano altri oggetti pesanti presi il gran candelabro che era sul tavolo e che la luna illuminava di un pallido riflesso e mi avviai con molta cautela verso la porta del laboratorio all'inizio camminavo a scatti e con difficoltà e nel semibuio non era facile orientarsi rapidamente giunto alla porta un'occhiata mi rivelò che il mio ex amico era adagiato su una grande poltrona imbottita accanto a lui c'era un tavolino da fumo su cui vidi diverse bottiglie e un bicchiere era piegato verso l'ampia finestra da cui filtrava la luce della luna e i lineamenti infidi erano atteggiati in una smorfia da ubriaco in grembo aveva un libro aperto uno dei sinistri volumi della biblioteca privata per un lungo momento assaporai l'opportunità che mi soffriva poi avanzai rapidamente e calai il pesante candelabro sulla testa in difesa di Andrews ci fu uno schianto accompagnato da uno schizzo di sangue e il maledetto cadde sul pavimento con il cranio spaccato a metà non provai alcun rimorso per averlo ucciso in quel modo torrenti esemplari che si intravedevano nella camera frutto delle sue manipolazioni chirurgiche e in vari stati di integrità e conservazione provavano che si era macchiato di crimini che avrebbero dovuto essere puniti anche senza il mio intervento Andrews si era spinto troppo in là nel tentativo di perpetuare la vita e in qualità di sua orrenda cavia perché di questo ormai ero sicuro era mio dovere eliminarlo mi resi conto che Simes non sarebbe stato un avversario facile solo un colpo di fortuna mi aveva permesso di trovare Andrews svenuto quando finalmente mi diressi verso la stanza del domestico debole per fatica seppi che ci sarebbe voluta tutta la mia forza per completare l'opera la camera del vecchio era sprofondata nel buio perché dava settentrione ma Simes deve avermi visto sulla porta mentre entravo mandò un urlo rauco ed io lanciai il candelabro dal punto in cui mi trovavo colpì qualcosa di morbido e nel buio si udì un terribile scricchiolio ma le urla continuarono da quel momento in poi i fatti si confondono e diventano nebulosi ma ricordo di aver lottato col mio avversario e di averlo strangolato lentamente prima che riuscisse a mettergli le mani addosso il vecchio gridò una serie di cose spaventose e gridando chiedeva pietà perché lo risparmiassi a stento mi resi conto della mia forza ma alla fine di una lotta , il complice di Engrus fece la sua stessa fine mi allontanai dalla camera buia e barcollai verso la porta delle scale la traversai e in un modo o nell'altro raggiunsi il piano inferiore non c'erano lampade e la mia sola fonte di luce erano i raggi di luna che filtravano dalle strette finestre dell'ingresso avanzai goffamente sulle fredde umide lastre di pietra del pavimento la testa che mi girava per lo sforzo terribile e raggiunsi la porta d'ingresso dopo un'interminabile strisciare brancolare nell'oscurità ricordi elusivi ombre ossessive mi tormentavano nell'antica sala d'ingresso ombre che una volta erano state amichevoli e comprensibili ma che adesso erano misteriose e irriconoscibili inciampai sui gradini consunti per qualcosa che era più della paura per un attimo rimasi all'ombra del grande castello di pietra esaminando alla luce della luna il sentiero che avrei dovuto percorrere per raggiungere la casa dei miei avi ad appena mezzo chilometro di distanza ma la strada mi sembrò lunga e per un pezzo disperai di avere la forza ad attraversarla finalmente raccolsi un ramo morto lo usai come bastone e mi avviai lungo il sentiero serpeggiante davanti ai miei occhi a una distanza che pareva di pochi passi e illuminata dalla luna sorgeva la venerabile dimora in cui i miei antenati erano vissuti e morti le torri si ergevano spettrali nel pallido chiarore e l'ombra nera proiettata sul rapido pendio della collina pareva ondeggiare e agitarsi come appartenesse a un castello irreale era il monumento di mezzo secolo il rifugio per giovani e vecchi della mia famiglia che avevo abbandonato da anni per vivere col fanatico che avevo abbandonato da anni per vivere col fanatico andrius quella notte fatale era deserto e spero che rimanga così per sempre raggiunsi infine l'antica dimora anche se non ricordo l'ultima parte del viaggio mi bastava essere vicino al cimitero di famiglia fra le cui lapidi cadenti e coperte di musco avrei cercato la morte che desideravo avvicinandomi al campo santo illuminato dalla luna mi assalì di nuovo in modo imprevisto un'antica familiarità che durante la mia esistenza abnorme era scomparsa mi avvicinai alla mia tomba e la sensazione di essere tornato a casa si fece più forte ma insieme ad essa si manifestò il terribile senso di alienazione e mancanza di corpo che conoscevo così bene ero contento che la fine si avvicinasse e solo più tardi mi fermai ad analizzare i miei sentimenti quando mi si rivelò il pieno orrore della mia situazione riconobbi istintivamente la mia tomba perché fra le zolle di terra l'erba aveva cominciato a crescere appena con ansia febbrile cominciai a scavare nel tumulo e mi si annudo la terra umida della fossa che avevo ottenuto estirpando erba e radici non so per quanto tempo scavai la terra ricca di sali prima che le mie dita toccassero il coperchio della bara ma colavo sudore e le mie unghie si erano ridotte a inutili mozziconi sanguinanti finalmente mi liberai dell'ultima manciata di terra e con dita tremanti tirai il pesante coperchio ci ha detto un poco ed ero pronta ad alzarlo completamente quando un odore fetido e nauseante assalì le mie narici mi misi in piedi atterrito un imbecille aveva appiazzato la mia lapide sulla tomba sbagliata facendomi esumare il cadavere di uno sconosciuto l'odore spaventoso era inconfondibile poco a poco un'orribile incertezza si impossessò di me e mi allontanai di qualche passo dalla fossa un'occhiata all'iscrizione fatta di recente mi bastò era proprio la mia tomba non è perché qualche idiota gli aveva seppellito un altro cadavere di colpo un frammento della tremenda verità affiorò al mio cervello l'odore nonostante la putrefazione aveva anche di familiare di orribilmente familiare ma mi rifiutavo di prestar fede ai miei sensi vacillando e imprecando mi calai di nuovo nella fossa nera e alla luce di un fiammifero acceso frettolosamente sollevai completamente il coperchio della bara poi la luce si spense come estinta da una mano maligna e piantando le dita nella terra mi tirai fuori dal maledetto buco urlando in preda a un attacco di terrore e disgusto quando ripresi conoscenza giacevo davanti alla porta della vecchia casa dove dovevo essermi trascinato dopo l'orribile incontro nel cimitero di famiglia mi resi conto che mancava poco all'alba e mi alzai debolmente apri l'antico portone ed entrai nella magione in cui da più di un decennio non risuonava rumori di passi il mio corpo indebolito bruciava di febbre e non riuscivo quasi a rezzermi in piedi ma attraversai lentamente le sale polverose e fiocamente illuminate quindi barcollai nel mio studio lo stesso che avevo abbandonato anni prima quando il sole si alzerà andrò all'antico pozzo che si trova sotto il salice presso il cimitero e vi precipiterò il mio essere deforme nessuno dovrà mai vedere l'orrore la cui esistenza si è prolungata più del dovuto non so che cosa dirà la gente quando vedrà la mia tomba profanata ma se riuscirò a trovare la pace e sfuggire a ciò che ho visto fra le lapidi cadenti e coperte di musco in quel luogo orribile non è affare che mi riguardi adesso so perché Andrews era tanto furtivo perché dopo la mia morte artificiale mi guardava con un'aria di trionfo mi aveva sempre considerato una cavia uno strumento dei suoi esperimenti più audaci il capolavoro della stregoneria chirurgica l'esempio di un'arte pervertita che lui solo avrebbe potuto ammirare non saprò mai dove si fosse procurato l'altro con cui mi condannò a spartire l'esistenza nel suo maniero diroccato ma temo che l'avesse portato con sé da Haiti insieme alla terribile medicina comunque le lunghe braccia pelose le gambette con cui termina il mio corpo mi sono estrane estrane a tutte le leggi logiche e naturali dell'umanità il pensiero di essere torturato dalla presenza dell'altro per il resto della mia breve esistenza è un inferno desidero soltanto ciò che una volta fu mio ciò che ogni creatura di Dio ha diritto di portare con sé fino alla morte ciò che ho visto in quell'attimo spaventoso nell'antico cimitero quando ho alzato il coperchio della bara il mio corpo avvizzito decomposto e senza testa attraverso il cuore il cuore di dittà attraverso il cuore attraverso attraverso il cuore Grazie a tutti